A volte le cose non sono come sembrano. Prova a guardarle dall'altro lato. Prova a cercare un altro punto di vista. Ti sorprenderai a scoprire nuove e inaspettate prospettive. Vintage, rarità, mobili, abbigliamento, casalinghi e ancora libri, oggettistica, biancheria, arredamento, dischi, giocattoli e tanto altro ancora. Prezzi solidali e voglia di condividere. Questo è il mercatino di Emmaus. Vieni a trovarci. Mercatino dell'usato solidale Emmaus via Mestri del Lavoro 5 Santa Maria Maddalena. Siamo aperti il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e in martedì e giovedì solo di pomeriggio dalle 15 alle 18. Per saperne di più chiamaci allo 0425 75 4004 o visita il nostro sito www.emmaus.it. A Emmaus diamo una seconda possibilità anche alle cose.